Nella serata di ieri la conferma con la firma dell'ordinanza da parte del governatore Cirio. In Piemonte supermercati chiusi, parliamo di grandi e medie strutture di vendita, dalle ore 13 del giorno di Pasqua e per l'intera giornata di Pasquetta. Sempre per il Piemonte, a partire dalla mezzanotte scorsa e fino a lunedì 5 aprile compreso, è vietato recarsi nelle seconde case per coloro che non sono residenti sul territorio regionale. Questa misura ha la finalità di limitare le occasioni di assembramento in questi giorni di festa, sottolinea Cirio, ma con la volontà di garantire le piccole attività di vicinato che potranno continuare ad offrire il servizio e come segno di rispetto per dare un momento di riposo alle lavoratrici e ai lavoratori della grande distribuzione. Ricordiamo che per una decisione dell'azienda i supermercati Nova Cop saranno invece chiusi anche nell'intera giornata di Pasqua. Sin qui dunque le misure più stringenti regionali. Ma cosa la normativa nazionale consente da domani e fino a lunedì compreso quando tutta l'Italia sarà in zona russa? Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Nel rispetto dello stesso ammesse le visite da amici e parenti all'interno dei confini regionali e una sola volta al giorno. Ci si può spostare in massimo due persone, non rientrano nel conteggio i figli minori di 14 anni o le persone disabili. Come a Natale insomma, si può uscire dai confini regionali per andare a trovare un parente solo non autosufficiente. Restano le raccomandazioni del distanziamento, anche durante il pranzo o la cena, tra le persone non conviventi e dell'uso della mascherina. Si ricorda di areare i locali. Messa di Pasqua con autocertificazione e in una chiesa vicina a casa. Niente scampagnate e picnic di Pasquetta. Attività motoria solo nei pressi della propria abitazione o per recarsi nei negozi.